Torri delle Porto tutti assolti ora si può costruire 50 sindaci uniti per Pesaro 2024 Gabizze siglato patto di vigilanza su fondi pubblici Studenti e lezioni di clima con il consorzio di bonifica Annullato lo spettacolo di Stefano Accorsi a Pesaro Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di mercoledì 8 febbraio che apriamo con uno dei casi di edilizie più controversi della città di Pesaro quello delle torri sul terreno portuale dell'ex consorzio agrario edificazione di appartamenti che si sblocca dopo due anni di stop e dopo una sentenza delle tribunale di Pesaro arrivata ieri Dopo due anni esatti dal controverso blocco dei cantieri risalente a febbraio 2021 il progetto delle due torri da 80 appartamenti al porto di Pesaro sul terreno del demolito ex consorzio agrario vede sgombrato il campo da ogni ostacolo a far ripartire la costruzione dei palazzi Ieri l'ultima matassa è stata sgrovigliata dal tribunale di Pesaro che ha assolto con rito abbreviato tutti e tre gli imputati della società Nova Portum che all'epoca furono accusati di presunto abuso edilizio in base ad una norma attuativa del PRG del 2003 evidenziata dalla Capitaneria di Porto che impediva edificazioni incalate a Caio Duiglio di costruzioni non strettamente inerenti alle attività portuali I costruttori avevano avuto già ragione dal ricorso al TAR recepito lo scorso 14 dicembre anche dal Consiglio Comunale di Pesaro che cancellò il pasticcio burocratico creato in gran parte dal cortocircuito interpretativo dello stesso comune fra PRG del 1990 e quello del 2003 Comune che nel 2018 aveva tra l'altro dato l'ok ai permessi di costruzione In tribunale la procura aveva chiesto due mesi di arresto e 20.000 euro di ammenda ogni imputato Ieri è invece arrivata l'assoluzione per Paolo Giorgini, Luca Ferretti e Alessandro Gurini rispettivamente amministratore di Nova Portum, direttore dei lavori e responsabile dei cantieri All'uscita dal tribunale la società Nova Portum ha espresso soddisfazione per la fiducia riposta nella magistratura che le ha riconosciuto l'aver agito nel rispetto delle normative società che ora trova semaforo verde per poter riprendere a costruire Pesaro Scaldi Motori per il 2024, anno di capitale della cultura e lo fa radunando 50 sindaci della provincia per un progetto condiviso che abbraccerà l'intero territorio di Pesaro Urbino Vediamo il servizio La marcia serrata verso Pesaro 2024 punta forte sulla condivisione e sul coinvolgimento allargato Va in questa direzione la visione di una capitale della cultura che dal capoluogo di provincia abbraccerà tutti i comuni del territorio che avranno la loro occasione per mettere in mostra forze artistiche, culturali e naturalistiche con ogni comune di Pesaro Urbino che sarà capitale della cultura per una settimana del 2024 Un concetto ribadito martedì sera nel Salone Metaorense di Palazzo Ducale della Prefettura dove il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e il direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini hanno accolto 50 sindaci della provincia per illustrare le linee operative 50 comuni che saranno tutti al pari i protagonisti di una capitale che già dal proprio dossier di candidatura ha voluto raccontare appunto un percorso nei 50 comuni delle 52 settimane Il momento è particolarmente sentito anche perché tra 12 mesi, anzi qualcosa in meno ci sarà con noi il Presidente della Repubblica a dare l'avvio come la tradizione a questa grande avventura che è l'anno di capitale della cultura ma in realtà dobbiamo sentirci tutti coinvolti come se questo anno fosse già iniziato perché infatti è già iniziato e soprattutto sentirci responsabilizzati e fare in modo che sia una sfida che possa poi durare in termini di risultati di benefici per il nostro territorio per gli anni a venire La condivisione è fondamentale, non è mai un lavoro facile meno che meno quando si mettono insieme tanti enti locali ma anche tanti soggetti e operatori nella cultura bisogna cercare di portare tutti alla stessa velocità e fare in modo che tutti si sentano partecipi Siamo orgogliosi di fare rete, di fare squadra nei prossimi mesi assieme al Comune di Pesaro per promuovere al meglio il nostro territorio la nostra provincia ma anche la nostra regione Ringrazio Pesaro per essere capofila in questo progetto che riguarda appunto una realtà condivisa probabilmente riguarderà una settimana per comune quindi il 2024 vedrà Monbaroccio stessa capitale della cultura e quindi devo ringraziare il Comune di Pesaro, l'Assessorato della Cultura per l'ottimo lavoro svolto e anche il Ministero per aver premiato questa coralità di progetti Monbaroccio è pronta, Monbaroccio ha da dare il Palazzo del Monte, il Beato Sante, tutti i musei civici della civiltà contadina tutta l'arte che abbiamo da mettere a disposizione in un magnifico borgo medievale e rinascimentale Le direttive su cui stiamo lavorando sono quelle che più già insomma ci fanno conoscere anche al di fuori del territorio provinciale e regionale che sono sicuramente il teatro, l'associazionismo, l'enogastronomia le nostre sagre, i nostri borghi quindi stiamo lavorando un po' su queste direttrici e presto penso che avremo anche qualcosa su cui lavorare di veramente molto concreto Come da tradizione il battesimo dell'anno da Capitale della Cultura sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre questo mese, già il 25 febbraio, sarà a Pesaro il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano per l'inaugurazione del nuovo assetto del Centro Arti Visiva e Pescheria Pensiamo ad accendere quello che vogliamo essere un fuoco olimpico cioè qualcosa destinato ad urano, destinato ad ardere e destinato a raccontare la provincia di Pesolvino con tutte le sue potenzialità più ancora di quanto fino ad ora non sia conosciuta anche per i propri meriti grazie alla straordinaria opportunità rappresentata dalla Capitale Italiana della Cultura 2024 Noi come Prefettura ci sentiamo chiamati in gioco per cui ci stiamo rifacendo il look insieme all'Agenzia del Demanio che ringrazio abbiamo fatto dei sopralluoghi nei giorni scorsi in modo da rendere questo palazzo ancora più bello di quello che è di portarlo diciamo al suo valore e alla sua bellezza rinascimentale di tal che possa essere goduto da tutti Ed il PNRR è un'opportunità ma anche un rischio per indebite appropriazioni di risorse va in questo senso il protocollo d'intesa affermato questa mattina presso il Comune di Gabizia Mare I fondi pubblici introdotti dal PNRR non possono essere mal gestiti va in questa direzione il patto di impegno e collaborazione siglato questa mattina tra Comune di Gabizia Mare Guardia di Finanza e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro L'obiettivo è quello di prevenire eventuali appropriamenti illeciti della somma destinata al Comune di Gabizia e garantirne quindi la totale sicurezza contrastando eventuali azioni da parte della criminalità organizzata È chiaro che l'intento di questa firma, di questo protocollo è iniziare un percorso che già di fatto c'è ma abbiamo formalizzato in modo tale da avere il supporto necessario sia dalla Guardia di Finanza come organo di controllo che dalla Procura come poi organo che dovrà accertare eventuali reati affinché ci possa essere questo continuo scambio di informazioni di flussi informativi in modo tale che le risorse che vengono impiegate con i fondi in questo caso PNRR possono essere monitorate costantemente è chiaro che nel momento in cui vengono fatti degli investimenti pubblici l'attenzione deve essere massima nel scegliere anche le imprese che poi debbano essere chiamate a seguire i lavori ed è importante per noi sindaci, per noi comuni avere questo supporto delle autorità che sono poi competenti nell'attività di accertamento e di controllo quindi è un momento importante, è un inizio di un percorso perché come abbiamo poi illustrato nel corso della presentazione del protocollo l'obiettivo è quello anche di avere questo supporto continuo anche per le altre attività ordinarie quando vengono erogati dei contributi o degli aiuti sotto qualsiasi forma o per qualsiasi tipo di lavoro che viene fatto all'interno dell'ente locale quindi sarà importante e noi ci teniamo in particolar modo ad avere questo scambio informativo questo scambio di azioni in modo tale che attraverso il lavoro di squadra si possano contrastare fenomeni di illeciti o comunque di infiltrazioni di qualsiasi tipo naturalmente di tipo mafioso che vorremmo starne alla lontana Procura partecipa a quella che è la creazione di un miglior flusso informativo, comunicativo fra le autorità coinvolte nell'ambito di questa operazione di monitoraggio e di controllo del buon fine delle risorse pubbliche quindi nella consapevolezza che migliore è la comunicazione dei dati che ognuno di noi manovra migliore può essere più rapido, più efficace il risultato finale D'accordo come quello firmato oggi che già era stato firmato con altri enti locali della provincia è finalizzato un intercambio di informazioni volte a prevenire frodi, abusi o violazioni appunto nella gestione dei fondi PNRR così importanti per il nostro paese in una fase diciamo complessa che necessita appunto un investimento serio corretto e a vantaggio della collettività e della ripresa economica E i visili delle fuoco di Cagli e Urbino sono intervenuti questa mattina a Fermignano per l'incendio di un monolocale nel centro storico L'appartamento era vuoto al momento dell'erogo ed è stato dichiarato inagibile L'intervento dei visili delle fuoco ha isolato l'incendio al solo monolocale con le fiamme che non hanno intaccato le abitazioni vicine Gli studenti pesaresi vanno a lezione di clima è questo l'obiettivo delle consorzio di bonifica che questa mattina ha ospitato al Cinema Loreto di Pesaro la prima tappa di un articolato percorso formativo A lezione di clima a lezione centinaia di studenti delle scuole superiori di Pesaro questa mattina al Cinema Loreto per capire la portata di questa crisi climatica che ci lascia alle spalle un 2022 etichettato come uno degli anni più caldi della storia e anche le strategie di adattamento a questa situazione Una lezione voluta dal consorzio di bonifica delle marche alla presenza del geologo, climatologo e nivologo di fama internazionale Massimiliano Fazzini Claudio Netti ci spiega perché il consorzio di bonifica ora punta sulla formazione delle nuove generazioni sul tema climatico Subito dopo l'evento disastroso del 15 settembre del 2023 abbiamo anche pubblicamente avanzato alcune proposte dopo la riflessione su quello che è accaduto e allora abbiamo detto in quella circostanza che bisogna fare qualcosa subito è che ci stiamo affidando troppo alla gestione informatizzata o comunque non in presenza per dare allerte sulle criticità e informazioni sulle cose da fare nell'immediato cioè ci rivolgiamo alle scuole quindi ai giovani per introdurre il ragionamento che il clima è qualcosa di importante da osservare i mutamenti climatici sono in atto e quindi creare una sorta di sensibilità noi dobbiamo iniziare a formare innanzitutto i giovani l'educazione ambientale l'educazione climatologica in questo caso deve essere parte integrante da questo momento in poi del prospetto o del leader di studi anche di un bimbo infatti noi stiamo iniziando anche con gli elementari spesso e volentieri con le scuole primarie a fare delle piccole lezioni di clima è fondamentale perché i ragazzi di adesso saranno gli adulti del futuro e abbiamo bisogno delle loro competenze della loro tecnologia visto che sono molto più adatti a comprendere un mondo tra i reti tecnologici e l'intelligenza artificiale e via dicendo ma hanno bisogno di basi e le basi le dobbiamo dare necessariamente noi che in questo momento abbiamo la possibilità umilmente di spiegare loro un po' di cose noi pensiamo di innestare su questa semina di carattere generale con delle lezioni sul clima su quanto è accaduto anche nella nostra realtà regionale di innestare un ragionamento un po' più articolato e cioè cominciare a pensare alla formazione di alcuni giovani con la qualifica di meteoreporter e cioè persone non macchine che debbono essere presenti sul territorio in occasione degli eventi o dei temuti eventi e che in correlazione con la protezione civile con il consorzio di bonifica siano in grado di trasmettere dati reali di quello che sta accadendo con l'osservazione delle nuvole con l'osservazione dell'andamento delle piovosità dei venti e quindi creare una rete di persone sul territorio meteoreporter appunto che ci danno in tempo reale la situazione nel nostro territorio regionale quindi noi pensiamo ad un processo di formazione di giovani che acquisiranno questa qualificazione che saranno gestiti con una app dedicata appositamente a loro trasferita anche alla regione alla protezione civile in modo tale che non siano più solo due occhi o qualche occhio elettronico a guardare quello che avviene ma siano occhi umani e restando sempre in tema di clima torna a rivedersi la neve sulla nostra provincia vi mostriamo in tal senso un'immagine del centro di Urbino di questo pomeriggio e vi informiamo che la protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni di meteo avverse per precipitazioni nevose che prolunga fino alle 14 di domani quello attualmente in corso sulla regione Marche per pesare territori limitrofi l'avviso riguarda deboli nevicate che potrebbero interessare anche la costa ed ora un'informazione per tutti gli utenti della sanità ospedaliera vi informiamo che dalle ore 13 di sabato 11 febbraio fino alle ore 8 di lunedì 13 è prevista una sospensione del servizio CUP questo perché in seguito alla riforma sanitaria tutti i dati identificativi dei cittadini marchigiani dovranno essere trasferiti dai sistemi informativi dell'Asur unica regionale a quelli in fase di creazione delle 5 aziende sanitarie territoriali provinciali e a causa di una indisposizione delle noto attore Stefano Accorsi è stato annullato lo spettacolo Azul Gioia Furia Fede e Eterno Amor che era previsto in escena al Teatro Sperimentale di Pesaro Amat comunicherà eventuali dati di recupero dello spettacolo o le modalità di rimborso per i biglietti acquistati e sono 49 le farmacie della provincia di Pesaro Urbino che aderiscono alla giornata di raccolta delle farmaco con la quale si potrà aiutare l'azione di sostegno a 29 enti del territorio Per la 23esima giornata nazionale di raccolta del farmaco il Banco Farmaceutico invita i cittadini a mettersi una mano sul cuore per fare un'opera caritatevole Come in tutta Italia la raccolta si svolge anche nella provincia pesarese dal 7 al 13 febbraio in 49 farmacie del territorio I volontari del banco saranno presenti solo sabato 11 febbraio e tutto ciò che sarà ricevuto verrà donato a 29 realtà locali che si prendono cura dei più bisognosi Basterà andare in una delle farmacie che espone la locandina che vedete anche qua per entrare e donare un farmaco necessario all'ente a cui è abbinata la farmacia quindi andrete pure dal farmacista che vi indicherà sono farmaci senza obbligo di ricetta medica per cui da automedicazione quindi sciroppi per la tosse aspirina integratori di ogni genere insomma quindi ci sono proprio queste esigenze primarie non chiaramente per patologie Nel 2022 sono state raccolte a Pesaro 3200 confezioni per un valore di 26.000 euro che hanno contribuito ad aiutare 1300 persone di 30 enti un aiuto grande che il banco farmaceutico ricorda con fiducia in virtù di un contributo importante anche per quest'anno nonostante le maggiori difficoltà economiche che ha riscontrato la popolazione italiana negli ultimi anni ogni anno anche noi che ci lavoriamo in quest'opera diciamo il nostro sì per cui io spero proprio che anche la gente si metta una mano sul cuore capisco le difficoltà della popolazione di tutti in questo periodo però c'è veramente gente che deve decidere se comprassi un farmaco piuttosto che comprassi da mangiare tre classi quarte dell'istituto Bramante Genga si sono recate alla Wellness Valle di Technogym a Cesena l'azienda collabora infatti con la scuola pesarese con il comune di Monbaroccio per la realizzazione di un progetto di rivalutazione in chiave accessibile della zona circostante alle monastero delle Beato Sante ha partecipato all'incontro anche il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci secondo il quale proprio attraverso le esperienze e l'innovazione di Technogym e insieme alla visione di un futuro dei giovani studenti si potrà rendere il territorio di Monbaroccio un esempio di ricerca per la salute e il benessere attraverso percorsi diversificati per fasce di età e complessità psicofisiche E concludiamo il nostro telegiornale occupandoci ancora di scuola e andando a conoscere le attività del Centro Studi di Pesaro Il Centro Studi di Pesaro è un centro di preparazione scolastica quindi accompagniamo i ragazzi dal mese di ottobre a maggio appunto nella preparazione per gli esami all'idoneità della classe prima alla classe quarta superiore o l'esame di maturità in quinta superiore La mattina abbiamo studenti di età scolastica quindi tra i 14 e i 19 anni che seguono un regolare corso di studi abbiamo tutti i curricula scolastici presenti e il pomeriggio invece facciamo lezione per chi è un lavoratore di qualsiasi età in lezioni individuali abbiamo anche altre tipologie di didattica non solo quella frontale ma anche quella online facciamo lezioni sulle piattaforme per magari persone che non possono venire qui fisicamente o sono di fuori città sia per le medie che per le superiori e abbiamo anche la modalità sincrona che ci serve magari per studenti o lavoratori che non possono seguire una lezione in diretta ma possono usufruire dei nostri materiali didattici quando meglio riescono la nostra particolare e principale volontà è quella che i ragazzi vengano qui tranquilli che recuperino magari le loro lacune si didattiche ma soprattutto che recuperino la fiducia loro stessi perché molto spesso magari nei grandi numeri delle classi della scuola pubblica possono un po' perdere quello che è il rapporto umano quindi le nostre classi sono piccole sono classi dai 5 alle 10 persone e questo ci permette di curare molto il rapporto con il singolo quando il ragazzo viene da noi con il sorriso per noi è già tanto quando riesce poi ad ottenere i risultati per cui magari ha lavorato tutto l'anno è per noi una vittoria doppia e oltretutto abbiamo tutto personale docente giovane in modo da far sì che loro si sentano proprio in più in sintonia ecco con con i loro professori siamo tutti giovani ma appunto tutti laureati e ci teniamo molto soprattutto alla cura della persona perché recuperi appunto la fiducia che magari aveva perso negli anni di studio il metodo di pratico si basa sullo studio degli argomenti base degli alunni di tutti gli indirizzi di studio attraverso l'utilizzo di schemi e mappe concentrali questo perché favorisce l'apprendimento in maniera rapida e soprattutto per quando i ragazzi dovranno effettuare esami o ripetizioni aiuta il ripasso in maniera agevole l'idea è quella quindi di diciamo favorire l'apprendimento senza andare ad appesantire il carico del studio degli studenti ora siete anche al momento delle ripetizioni un momento anche particolare per il rush finale diciamo verso l'esame di maturità sì certo con l'inizio di febbraio il centro didattico il centro studi ampia la sua offerta affermativa con le ripetizioni per i ragazzi della scuola pubblica ma anche per quelli della scuola privata che fanno le lezioni con la mattina su gli argomenti su cui hanno problematiche sia in vista dell'esame ma anche in vista di eventuali verifiche o interrogazioni nella scuola pubblica o nella scuola privata non c'è solo la preparazione al diploma ma anche una preparazione a livello universitario sì, i nostri tutor offrono anche delle ripetizioni per esami universitari sia singoli ma anche in maniera continua in maniera multipla e anche per l'iscrizione quindi per i test dell'università a numero chiuso offriamo quindi un supporto alla didattica e allo studio le nostre lezioni durano 45 minuti negli anni ci siamo accorti che i ragazzi sono molto più produttivi la mattina durante appunto l'orario delle lezioni però 45 minuti permette loro di avere ancora la soglia d'attenzione vigile e quindi riusciamo a intensificare e ottimizzare meglio il tempo se volete venirci a trovare siamo in via Montello 4 la posizione strategica perché ci troviamo a pochi passi dalla stazione sia dei treni che delle corriere e anche al pezzale Carducci per chi viene con i propri mezzi e ci potete trovare anche sulle pagine Facebook e Instagram Centro Sud di Pesaro ed era questo l'ultimo servizio di questa nostra edizione di Rossini News prima di lasciarvi le previsioni delle meteo andiamo a vedere quale sarà la nostra prima serata e la programmazione questa sera alle ore 21.20 vedremo lo speciale tv realizzato salute e prevenzione per un corpo sano appuntamento domani mattina poi come di consueto con la nostra rassegna stampa della provincia di Pesaro Urbino ore 7.20 in diretta sul canale 80 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook sull'app e sulle sito domattina ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi vi ricordiamo anche le repliche 8.20 12.30 14.18 facciamo un salto in avanti anche alla prima serata di domani sera alle ore 21.20 in diretta anche qua sia sul canale 80 che sulla nostra pagina Facebook insieme a Canestro ospiti del nostro Marco Cadedu saranno il direttore sportivo della Vittoria Libertas Stefano Cioppi e il presidente di Aspes SPA Luca Pieri vi ricordo come sempre che potrete intervenire in diretta o tramite Whatsapp il numero che vedete scritto 370 366 7210 oppure appunto commentando la diretta Facebook ed è tutto per questa nostra edizione io vi lascio le previsioni delle meteo e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti